un uomo possiede due pappagalli però non riesce a capire qual è il maschio e qual è la femmina così si reca al negozio di animali al negozio gli dicono beh è facile per capirlo quando si accoppiano basta guardare quello che sta sopra e quello che sta sotto ah grazie così il tale torna a casa e si mette a sorvegliare i pappagalli quando fanno l'amore vede quello che è sopra ah sei tu il maschio e per riconoscerlo gli taglia il ciuffo che ha sulla testa ecco ora sì che ti riconosco il giorno dopo a casa del tale arriva un frate a benedire il pappagallo come lo vede gli vola sulla spalla e gli dice ehi amico hanno sorpreso anche te a fare cose